Ciao, sono Giorgio e mi sono laureato in Ingegneria Elettronica all'Università di Genova. Ho scelto questo corso di studi perché ho sempre avuto una passione per la matematica e in generale per le materie scientifiche. Finiti gli studi, ho iniziato a lavorare nell'ambito della consulenza informatica, esperienza che è durata circa un paio d'anni e mi ha consentito di conoscere diversa realtà dalla multinazionale alla piccola impresa. Nel 2007 sono stato contattato da Paul Wurt, che è una società leader nella progettazione di soluzioni per l'industria siderurgica, così ho iniziato a lavorare come sistema di ingegneria nel reparto di automazione di processo. Oggi sono responsabile del team di automazione di processo e mi occupo dello sviluppo di modelli matematici e software nell'ambito dell'industria siderurgica. L'obiettivo è quello di fornire ai nostri clienti soluzioni e strumenti per condurre gli impianti in maniera più ottimizzata e innovativa, sfruttando le tecnologie come gli Internet of Things e Big Data e tutte le tecnologie relative all'industria 4.0. Lavorare per una multinazionale come Paul Wurt dà la possibilità di viaggiare in tutto il mondo, infatti ho avuto la possibilità di trascorrere un anno in Luxemburgo presso il nostro headquarter e trascorrere diversi mesi in diversi paesi come India, Cina, Brasile per l'avviamento di impianti. E il poter vedere realizzato ciò che si è progettato dà sicuramente una grande soddisfazione. Per tutti questi motivi sono assolutamente soddisfatto dell'aver studiato Ingegneria Eletronica a Genova e non posso fare altro che consigliare questa scelta a chiunque abbia il desiderio di migliorare se stesso mettendosi continuamente in gioco. Grazie per la visione!